L'ultima volta che il centrodestra a Corso Unito si chiamava ancora Democrazia Cristiana, mio papà era uno degli assessori e l'ho sentita come una chiamata che mi ha fatto anche emozionare e un grande atto di responsabilità è stato quello comunque di accettare, anche se non l'avrei mai pensato prima di dieci giorni fa. A zero branco quindi il centrodestra ricomincia da Luigi Cecconi, 57 anni, consulente finanziario, una vita nello sport e nelle associazioni come dirigente della squadra locale di volley, forse anche per questo l'inizio della campagna con i simboli di partito e due liste civiche a supporto e all'insegna del fair play. Io non mi sento di bocciare l'amministrazione Durighetto, preferisco parlare di quello che vogliamo fare noi che evidentemente sarà qualcosa di diverso da quello che hanno fatto loro fino ad oggi. La mia priorità assoluta sarà quella di condurre una giunta che non sia soltanto una giunta tra la gente ma una giunta per la gente. Sullo sfondo resta però un caso la sua sospensione a 30 giorni per aver attaccato un arbitra ventenne durante una partita di pallavolo, provvedimento preso dalla federazione. È stato un episodio che è nato completamente da un equivoco, è già stato chiarito sia con la federazione che con i diretti interessati che erano presenti alla partita, un episodio che quindi per noi è già chiuso e che è uscito secondo me ad arte proprio il giorno prima della nostra presentazione. Tutto risolto a quanto pare anche perché si preannuncia un mese intenso, gli obiettivi sono ambiziosi. Che Zerobranco ritorni attrattiva non solo ma che possa diventare anche una fucina di nuove esperienze politiche e amministrative date proprio dalla sua collocazione che è ai confini tra le tre province. Questa potrebbe essere vista come un limite perché sei un po' in periferia. In realtà questa è una grossa opportunità perché ti dà la possibilità di avere delle interconnessioni con le strutture vicine che ti permettono poi di adire anche quelli che sono i finanziamenti europei che senza collaborazione con i vicini non riesci ad ottenere.